Siamo dal vivo. Perfetto, dovremmo esserci. Andrea, secondo te ci siamo? Ce la facciamo? Sì, dovremmo, vero? Siamo in diretta. Perfetto. Ben ritrovati. Non abbiamo neanche fatto il tempo ad alzarsi e andare a fare la pipì. Anche quello fa parte della vita, ma ok. Siamo al secondo appuntamento di questa giornata, che è la giornata mondiale della logica. Abbiamo appena parlato con il professor Sambi, che ci ha spiegato che cos'è la logica. E adesso abbiamo qui Serafina Lapenta, la dottoressa Serafina Lapenta, che ci parlerà di logica o logiche. Benvenuta Serafina Lapenta. Grazie. Siamo felicissimi di averti qui. Abbiamo deciso appunto di darci del tu, di averti qui, perché sei giovane, sei una donna, sei una logica. Cioè, si può fare. Si può fare, sì. Quindi è veramente un messaggio per tutte le donne che ci stanno seguendo. Quello che appunto fare logica, studiare logica o matematica, non è una cosa impossibile per le donne. Ma non perdiamoci, grazie ai ragazzi, ai corsisti nel Master di Comunicazione delle Scienze, che appunto si sono, come abbiamo detto nel precedente webinar, si sono messi in gioco appunto per fare comunicazione. È una comunicazione molto particolare, che è la comunicazione della logica, che è una disciplina difficilissima da, appunto, da comunicare, perché è una disciplina, come dire, che difficilmente si riesce a vedere, beh, intanto non la si vede, voglio dire. Non è molto frequente, potrei dire, cattivamente, giusto? E in realtà è una disciplina che è presente sempre nella nostra vita e che non siamo educati a riconoscerla dove dovremmo. Esatto, esattamente. E quindi appunto grazie a Silvia Micheletto, che è di nuovo con noi qui. Eccoci qua. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie ad Aurora Colangelo. Eccoci qua, buonasera. Grazie a Silvia Pasquetto e a Silvia Pillitteri. Grazie dalla Silvia P1. E grazie dalla Silvia P2. E siamo tante Silvie e grazie anche tantissime ad Andrea che sta seguendo i social per noi e ci riporta appunto le domande da parte del pubblico. Buonasera a tutti. Buonasera a te Andrea. Allora, entriamo subito nel presentare, a presentare insomma Serafina Lapenta. Serafina Lapenta, come dicevamo appunto, è una giovanissima ricercatrice che si è laureata in logica, anzi sì, in logica matematica, giusto? Ha una laurea e un dottorato in matematica che ha preso all'Università della Basilicata, corretto? Ecco. E adesso invece fa ricerca, no, all'Università di Salerno come accade appunto a tutti i ricercatori e devono girare Mari e Monti per riuscire appunto a trovare un posto, giusto? Verissimo, sì. Allora, dopo aver parlato con il professor Sambin che ci ha spiegato che lui è un logico particolare cioè un logico costruttivista, chiamiamolo così e quindi diverso, no, da un logico classico, dalla logica classica cade a pallino parlare di appunto di, con Serafina Lapenta di logiche, logica o logiche e poi fare appunto un focus su una particolare logica di cui appunto parleremo oggi. Quindi, ragazzi, a voi la parola con le vostre domande. Vai Aurora. Eccomi qua. Allora, io intanto volevo ringraziarti per essere qui a nome di tutti quanti gli studenti come Silvio ha fatto prima di me con il professor Sambin. Dopodiché direi di rompere il ghiaccio con la domanda fatidica cioè esistono diversi tipi di logiche e perché esistono diversi tipi di logiche? Diciamo che domanda fatidica è anche difficile perché appunto visto il titolo del seminario ci ho pensato molto a dare una risposta coerente e coesiva a questa domanda però probabilmente la risposta di più semplice comprensione è che esistono tante logiche perché esistono tante cose diverse di cui parlare nel senso che il linguaggio naturale è molto ricco ha molte sfumature è possibile parlare di argomenti completamente diversi affermazioni del tipo 2 e un numero primo sono chiaramente molto molto diverse come struttura da affermazioni del tipo forse domani piove oppure ancora da Serafina è una persona molto alta sono tutte affermazioni che tra di loro sono molto diverse e non possiamo pensare che ci sia un linguaggio un formale che sia adeguato per rispondere per gestire tutte queste affermazioni contemporaneamente le varie logiche sono nate proprio per rispondere a stimoli diversi dal linguaggio naturale dalle scienze sociali dalla teoria dei giochi dall'informatica e così via quindi a mano a mano che si è sviluppata la scienza nel corso dei secoli così anche la logica nell'ultimo secolo ha iniziato a crescere in base anche agli stimoli che venivano dall'esterno la prima logica, chiamiamola così, tra virgolette la prima logica è quella classica quella del vero falso però già prima della prima logica definita all'inizio di questo secolo in maniera formale come ci ha spiegato anche un po' il professor Sambin già dai tempi di Aristotele si parlava un po' di altre logiche o meglio si parlava della possibilità di parlare di necessità in logica quindi come faccio a dire logicamente è necessario che valga una certa cosa oppure c'è la possibilità che valga una certa cosa quindi le logiche, le tante logiche sono nate appunto in risposta a stimoli diversi dal linguaggio per lo più o dalle altre scienze Ferafina noi sappiamo che tu sei una studiosa una ricercatrice che però si occupa in particolare di un certo tipo di logica che è la logica Fazzi ci spiegheresti che cos'è che siamo curiosi? Certo, allora è una di queste logiche appunto non classiche quindi logiche diverse dalla logica classica se vogliamo dare un cappello unico a queste logiche la logica Fazzi in particolare Fazzi in inglese si può tradurre come sfocato quindi è la logica se vogliamo dei predicati vaghi è quella logica che ci serve a ragionare ci consente anzi di ragionare formalmente con concetti che sono vaghi di natura ad esempio la mia maglia è gialla io sono alta quella persona lì è ricca ricco, alto, giallo ma anche vicino, basso sono tutti predicati del linguaggio naturale che però sono intrinsecamente vaghi cosa intendo per vago? intendo qualcosa che si può definire come un predicato che non ha un confine ben preciso quindi io posso prendiamo l'esempio di alto io posso chiaramente distinguere alcune persone che sono ovviamente alte rispetto a qualsiasi metro di giudizio alcune persone che sono ovviamente basse però ci sono delle persone che stanno lì in mezzo ed è difficile stabilire se sono alte o sono basse quindi non posso dire Sara, Serafina è alta oppure Serafina è bassa con assoluta certezza perché io sono alta nella media e quindi è difficile classificarmi con una logica classica con una logica del vero falso e quindi le logiche Fazzi ci aiutano a ragionare su questa tipologia di concetto che appunto se mi inserisco c'è anche un concetto forse anche di un concetto diverso di verità che sta alla base di questa logica cioè come dire una verità che ha delle sfumature cioè che non è tranchant come nella logica classica sì infatti più che diverso forse direi ampliato se vogliamo perché abbiamo sicuramente l'assolutamente vero è assolutamente falso però in mezzo a questi due valori di verità abbiamo tutte le possibili sfumature che potete immaginare quindi se pensiamo alla frase la mia penna è rossa abbiamo qualcosa che è sicuramente rosso qualcosa che è sicuramente non rosso tipo il verde però abbiamo il rosa che è qualcosa che magari possiamo classificare come una sfumatura di rosso quindi potremmo dire che una penna rosa una penna rosa è rossa con valore di verità 0,5 per esempio quindi ci consente di gestire le sfumature del linguaggio naturale certo tra l'altro questo era un problema scusate se mi intrometto anche perché noi abbiamo la fortuna che adesso possiamo dare ad oltranza perché non abbiamo nessun altro webinar no sarò buona questo era uno dei temi appunto anche di come dire sollevati da Kant il quale si chiedeva ma come facciamo a decidere che una cosa è rossa e che tutti la vedono rossa ok quindi è un problema che in qualche modo esiste da sempre però c'è anche il problema no dell'altro famoso problema del paradosso del solito cioè un mucchio quando è ancora un mucchio quanti granelli fanno un mucchio no questo per capire esattamente esattamente quello infatti c'è un filone di filosofia analitica che parla proprio di vaghezza quindi di teorie della vaghezza come gestire in filosofia analitica questi concetti vaghi e tra le varie soluzioni diciamo al problema della vaghezza c'è la logica fazzi c'è uno studioso mi viene in mente Nicholas Smith dell'Università di Sydney che ha lavorato molto sulla logica fazzi in teoria della vaghezza e lui classifica come predicati vaghi quei predicati che non hanno questi confini netti tra l'essere o non essere qualcosa ma anche quei predicati che sono suscettibili al paradosso del sorite quindi quei predicati per i quali questo paradosso mi dà un problema a un certo punto per chi non lo sapesse il paradosso del sorite è appunto questa idea di un chicco di grano non è un mucchio se aggiungo un chicco a un chicco continua a non essere un mucchio però la mia implicazione se non ho un mucchio e aggiungo un chicco di grano non ho un mucchio questa è vera o meglio siamo tutti portati a pensarla come plausibile quindi se io non ho un mucchio e aggiungo un chicco continuo a non avere un mucchio però a un certo punto aggiungendo chicchi arriverò ad avere un mucchio quindi sono partita da una cosa assolutamente vera sono arrivata a una cosa assolutamente falsa e a un certo punto le mie implicazioni sono fallite ma non capisco dove e come è successo la logica Fazzi ci aiuta un po' a giustificare questo come dire ragionamento dicendo che è vero le implicazioni da 1 a 2 da 2 a 3 da n a n più 1 è vero sono tutte plausibili ma non sono tutte assolutamente vere la verità di queste implicazioni diminuisce così piano che per noi è impercettibile solo che quando le concateniamo tutte assieme arrivo al falso Silvia Pillizzeri ha una domanda sì visto che qui appunto ci sono credo che ci sono che si può parlare di logiche al plurale magari forse è interessante capire se ci sono delle implicazioni anche nella vita di tutti i giorni delle applicazioni scusate di alcune di queste logiche magari anche fare qualche esempio un po' più pratico perché dire meglio il studio sì sicuramente partiamo dalla logica fazzi perché ovviamente è quella di cui sono più esperta e l'esempio più eclatante di applicazione di questa logica alla vita di tutti i giorni è un treno metropolitano in Giappone a Senpai Sendei credo comunque c'è questo treno che la cui velocità è controllata da un computer che funziona attraverso la logica fazzi quindi si chiama un controller fazzi che gestisce la frenata e l'accelerazione di questo treno quindi è un esempio proprio eclatante di applicazione della logica fazzi se non sbaglio questo treno siccome ne leggevo già vent'anni fa insomma dovrebbe essere molto affidabile nonostante si infatti l'intervento della logica fazzi in questo treno è che se non sbaglio ha migliorato l'efficienza energetica di una percentuale non irrilevante qualcosa tipo il 20% quindi è effettivamente una buona applicazione ma anche in maniera proprio più semplice ci sono stampanti che regolano la quantità di inchiostro che mettono in base all'umidità dell'aria e anche quelle gestito usando controller fazzi per altri tipi di logiche pensiamo ad esempio alla logica intuizionista che è stata citata prima dal professor Sambin quella è la logica della matematica costruttiva è la logica che sta dietro a esibire una dimostrazione questo tipo di logica è molto molto utile quando pensiamo a applicazioni informatiche ma è nello specifico a degli oggetti che si chiamano proof assistant quindi ci sono dei programmi software che io faccio una dimostrazione gliela do in pasto e lui verifica se è corretta o meno e questo tipo di programma chiaramente funziona bene se è basato su una logica intuizionista perché ha bisogno di un oggetto costruito per verificare che la cosa funzioni quindi ha bisogno di esibire la dimostrazione per poterla verificare e può sembrare un'applicazione un po' fine a se stessa però c'è un teorema famosissimo che è il teorema dei quattro colori non so se ne avete mai sentito parlare questo è un teorema che vi dice prendete una qualsiasi mappa avete in mente ma davvero qualsiasi mappa anche la mappa dei comuni d'Italia bene potete usare soltanto quattro colori per colorare questa mappa in modo che nessuna zona adiacente abbia lo stesso colore quindi per quanto complicata possa essere vi bastano quattro colori questo teorema è molto famoso anche perché è stato per anni senza una dimostrazione e poi la dimostrazione è stata data usando il computer ma la comunità matematica ha accettato la dimostrazione soltanto dopo che un proof assistant ha verificato che in effetti era valida quindi finché non siamo stati in grado di sviluppare questi software usando la logica la dimostrazione è rimasta controversa quindi ci sono applicazioni molto concrete come la metropolitana e applicazioni che sono ad altre aree della matematica o dell'informatica che però non sono assolutamente meno importanti ancora un altro esempio proprio nella vita di tutti i giorni può essere dato dalla logica modale la logica modale è una logica che ci racconta ci aiuta a formalizzare il modo in cui facciamo delle asserzioni quindi è la logica nella quale possiamo scrivere proposizioni del tipo è possibile che domani piova è necessario che domani piova è permesso fumare quindi tutte queste modalità sulla verità e queste logiche sono usate per esempio nei protocolli di comunicazione di componenti software dei sistemi informatici sono usate mettendo assieme tante di queste logiche se vogliamo semplificare un po' anche per parlare di teoria delle decisioni quindi per analizzare il modo in cui individui un gruppo di individui prende una decisione quindi le applicazioni sono molto molto varie ecco c'è appunto Silvio Micheletto che ha una domanda che casca a puntino proprio giusto allora io torno un attimo però alla Fazzi e ti chiedo una cosa proprio personale che cos'è che a te colpisce di questa logica o meglio c'è stato un momento nel tuo percorso che è stato particolarmente importante ed è stato determinante per te per decidere di approfondire proprio quel tipo di logica rispetto alle altre allora diciamo che io sono arrivata alla logica Fazzi un po' per una strada attraversa perché ho iniziato a studiare prima della logica in sé la parte algebrica che aiuta a descrivere questa logica quindi sono arrivata a questa logica con una motivazione puramente matematica mi piaceva questo argomento e ho deciso di fare la tesi su questo argomento tesi di laurea magistrale quindi banalmente però poi sono rimasta a studiare queste cose queste algebre perché appunto mi piace l'analisi del concetto di vaghezza che si può fare con la logica Fazzi la possibilità di spaziare con strumenti matematici anche molto profondi però arrivare a toccare un po' tutte le aree della matematica perché con la logica a più valori si può parlare di un po' di davvero di tutte le aree della matematica si può fare topologia si può fare geometria si può fare algebra si può fare non voglio dire qualsiasi cosa perché sarebbe eccessivo però si può fare davvero tanto io ora sto facendo probabilità usando questa logica quindi è molto interessante e infatti cade a pallino una domanda no Andrea che viene dal dal pubblico giusto? esattamente da YouTube ci chiedono infatti se esiste una differenza fra la Fazzi Logic e la Probabilistic Logic cioè appunto tra la fase e la logica che invece si basa sulle probabilità sì io direi di fare un attimino un passo indietro e prima fare proprio la distinzione perché molto spesso anche a lezione o comunque parlando di queste cose mi viene chiesto cosa c'è di diverso quindi questa cosa di dire la mia penna è rossa con valore di verità 0,5 oppure domani piove con valore di verità 0,5 in cosa si differenzia da la probabilità che domani piova è 0,5 che è un po' quello che chiedono però non voglio addentrarmi proprio nel dettaglio della sintassi della semantica della logica proprio un po' più a livello generale e lo potremmo spiegare in maniera un po' semplificando con con questa idea diciamo che domani piove con probabilità 0,5 mi dice appunto facendo un'analisi statistica delle di quello che è successo prima nel passato in quel giorno o comunque studiando le condizioni atmosferiche che domani potrebbe piovere con una probabilità relativamente bassa quindi può piovere o non può piovere e la probabilità che piova è diciamo 0,8 allora io penso che pioverà se invece dico domani piove e dico che questa affermazione ha un valore di verità pari a 0,8 sto parlando della quantità di pioggia che cade ok non della probabilità che piova quindi la logica fazzi distingue tra una pioggerellina e un temporale invece la probabilità che piova non fa questa distinzione mi dice semplicemente qual è la probabilità che diciamo cada acqua dal cielo se possiamo dirlo così ma non quanta ne cade ok non so se mi sono spiegata però diciamo il la motivazione dietro la differenza sta un po' qui in questa sottigliezza tra quello di cui stiamo parlando ecco però appunto mi aggancio alla questione della logica della probabilità che se non sbaglio è quella che viene utilizzata soprattutto nell'intelligenza artificiale è corretto? ci sono tante cioè parlare di una logica della probabilità non so quanto sia corretto io non sono proprio esperta sulla probabilistic logic però ci sono varie logiche che in maniera diversa tra di loro parlano della probabilità però lo fanno appunto come dicevo in maniera diversa ad esempio c'è una logica che è una logica modale dove la modalità sta a significare è probabile che ci sono altre logiche invece dove l'elemento base è la probabilità quindi ci sono vari modi di fare logica alcune di per capirci scusa se ti interromo per capirci quando si fa artificial intelligence quindi intelligenza artificiale vengono usate contemporaneamente o se ne sceglie a seconda dello scopo che uno che uno vuole avere non sono espertissima in questo però è veramente difficile che per fare intelligenza artificiale comunque a un livello sofisticato si ci possa accontentare di una logica o di un modo di ragionare cioè varie componenti in base a quello che devono fare utilizzano sistemi diversi per farlo perché appunto il linguaggio naturale e la simulazione dell'intelligenza attraverso il computer è troppo complessa per dire mi basta una sola logica per poterlo fare assolutamente Aurora Colangelo eccomi allora io tornerei un attimo a fare un passo indietro e tornerei appunto al fatto che esistono logiche diverse a questo punto mi viene un dubbio c'è la possibilità si potrebbe correre il rischio di perdere un po' dei riferimenti come dire addirittura arrivare all'esclusione di un linguaggio comune diciamo che ci potrebbe aiutare invece a metterci tutti d'accordo già che andare d'accordo è difficile con un linguaggio solo diciamo che una logica to rule the mall come direbbe Tolkien è impossibile da avere ma è impossibile perché è troppo complesso quello che vorremmo farci con questa logica il teorema di incompletezza di Gödel che citava prima il professor Sambin ci dice che non c'è neanche una logica to rule tutta la matematica cioè non basta neanche basta parlare di aritmetica e in un linguaggio logico abbastanza ricco da parlare di aritmetica troviamo che ci sono delle cose che non possiamo dimostrare quindi figuriamoci se volessimo trovare una logica per tutto il linguaggio naturale quello che però possiamo sicuramente fare è in base al contesto in base a quello di cui stiamo discutendo possiamo sicuramente dire ok in questo caso un ragionamento corretto è questo quindi il modo di ragionare corretto la regola che mi porta da una cosa vera a una cosa vera è questa allora lì poi possiamo focalizzarci su una logica o sull'interazione di più logiche però è difficile farlo così in generale quindi trovare un linguaggio universale che possa andar bene a tutti e che sia coerente perché sicuramente possiamo buttare tutto dentro però rischiamo di ottenere qualcosa che non abbia senso come dire che possiamo fare come dire un'analisi anzi un discorso sulla logica come disciplina meta che sta al di sopra delle diverse applicazioni delle diverse teorie ma che naturalmente diventa qualcosa che si applica in maniera molto particolare molto specifica a seconda appunto della teoria quindi facciamo un esempio la logica classica probabilmente non è proprio adatta per spiegare la meccanica quantistica ci vorrà una logica particolare che appunto tu ci senti la logica paraconsistente paraconsistente esattamente che rinuncia a certe regoline e che permette di fare cose a livello di teorie subatomiche giusto? esattamente in quel caso ci serve una logica che ammette la possibilità di avere proposizioni contraddittorie contemporaneamente vere che però non banalizzi la teoria cosa che invece succede in logica classica quindi in base a quello che vogliamo fare dobbiamo scegliere una logica adeguata la logica modale è la logica più adeguata per appunto ad esempio la teoria dei giochi quindi ci consente molto bene di fare analisi delle scelte di un gruppo di individui cosa che viene meno bene se fatta con altri tipi di logiche quindi bisogna capire qual è la logica più indicata per il nostro problema da affrontare e poi diciamo non sarebbe un po' strano usare lo stesso metodo lo stesso tipo di ragionamento per parlare di politica e per parlare di matematica sono cose che non vogliamo trattare allo stesso modo perché mentre una la possiamo pensare abbastanza diciamo rigida nelle sue regole dall'altro lato vogliamo avere un po' più di flessibilità per tener conto delle scelte degli individui ci serve sicuramente una base comune che è quella di capire che cos'è un ragionamento corretto e poi analizzarlo nell'ambito della logica adatta direi che questo forse è un po' il riassunto di quello che sarebbe bene fare certo ecco ci stiamo avviando verso la conclusione e adesso c'è una domanda appunto di Silvia Pasquetto sì che si collega comunque a quanto stavamo dicendo e forse anche magari semplicemente solo un chiarimento allora se ho capito corretto ci servono più logiche perché c'è troppa complessità in giro corretto giusto? possiamo semplificarlo così ok detto quindi compreso questo mi chiedevo se tutte queste logiche che sono necessarie a seconda dell'argomento che stiamo trattando come stanno le une rispetto alle altre cioè tipo la logica 1 e la logica 2 si rispettano si odiano hanno delle aree di sovrapposizione cioè cosa pensa una logica della logica vicino? ecco la logica paraconsistente queste sono logiche che sono in realtà tutte sotto un unico cappello si chiamano logiche sottostrutturali quindi in realtà possiamo andare dall'una all'altra aggiungendo togliendo delle regole o degli assiomi quindi ci basta dire questa per cambiare regola ci basta aggiungere un assioma dire ok questa cosa adesso voglio che sia vera oppure dire non mi piace questo modo di dedurre la verità non mi va bene in questo ambito cambiamolo dall'altro lato ci sono le logiche modali quindi come due famiglie due famiglie che abbiamo citato sono in interazione tra di loro ci sono molte ricerche molti studi di ricercatori anche molto recenti che guardano proprio a come queste logiche interagiscono e magari faccio un esempio banale di recente si sta cercando di capire come è possibile introdurre gli operatori modali in una logica fazzi questo è un esempio ed è un esempio molto molto moderno se vogliamo dire così sono linee di ricerca che si sviluppano di questi tempi però sono tutte giusto per essere molto concreti questo che cosa servirebbe come dire inserire dentro la logica fazzi una logica modale un esempio magari prima di tutto è proprio una questione di ricchezza di linguaggio perché quello che dicevamo la logica adeguata è in base a quello di cui vogliamo parlare ora senza guardare le applicazioni concrete perché magari quelle poi arrivano col tempo però questo ci consentirebbe di diciamo modellizzare formalizzare espressioni un pochino più sofisticate quindi io potrei dire penso che oppure so che il papà di Silvia è un uomo molto alto sto semplificando però l'idea è mettere assieme sfumature del linguaggio più sofisticate tra di loro quindi ci darebbe la possibilità di analizzare meglio il linguaggio naturale in maniera un po' più ricca quello che dicevo però bisogna farlo bene perché nel momento in cui aggiungiamo qualcosa a una logica oppure facciamo un mix di due logiche vogliamo farlo bene tra virgolette e con questo intendo che non deve diventare una logica contraddittoria nella quale poi effettivamente della quale poi effettivamente non posso far bene nulla devo comunque farlo nella maniera più intelligente possibile per unire al meglio questi due mondi certo ecco ci sono delle domande se non sbaglio anche dal pubblico no? le ha raccolte Andrea Andrea? ce lo confermi? esattamente ce ne sono due una un po' più generica una un po' più tecnica le faccio entrambe poi vediamo come rispondere allora una innanzitutto è fatta da Diego che ci chiede se le logiche possono essere in contraddizione fra loro e si vai con la seconda poi vediamo come rispondere prima la seconda invece chiede se relativa alle logiche fasi se significa ragionare per mezzo di euristiche e a questo punto poi viene chiesto cosa sono le euristiche allora sulla prima domanda non so cosa si intende per in contraddizione perché andrebbe specificato se matematicamente o meno cioè nel senso messe assieme mi creano la contraddizione logica oppure se hanno proprio modi diversi di vedere o se semplicemente le comunità che lavorano su quelle logiche si odiano tra di loro ecco potrebbe essere benissimo in linea di principio mi viene da dire che ci sono logiche molto molto diverse tra di loro e la logica intuizionista come ideologia diciamo così è una logica che è completamente diversa da una logica fazzi a me va benissimo dedurre non ha cioè dedurre a a partire da non ha io non ho problemi a farlo se trovo l'assurdo ecco quindi come come intuizione e come motivazione sono sicuramente in contrapposizione e anche a livello formale per passare da una logica all'altra ma anche per ottenere la logica intuizionista dalla logica classica dobbiamo eliminare un assioma e una cosa cioè fare una cosa di questo tipo comunque come dire è abbastanza forte diciamo però appunto non so bene in contraddizione cosa volesse dire però sì sicuramente ci sono logiche che sono veramente diverse tra di loro e magari hanno anche punti di vista completamente diversi sullo stesso sullo stesso argomento mi viene in mente per esempio la logica della rilevanza in logica classica una affermazione del tipo se la luna è fatta di formaggio allora a Salerno piove oppure non piove è una cosa completamente vera ma chiaramente dal primo non posso dedurre il secondo sono l'antecedente e il conseguente sono due cose completamente scollegate in logica della rilevanza questa implicazione non è accettata ecco non è possibile scrivere un'implicazione dove l'antecedente e il conseguente non hanno nessun legame tra di loro mentre in logica classica lo sono quindi uno potrebbe dire sì in effetti queste due logiche si contraddicono un po' perché mi danno due regole completamente diverse su cosa posso scrivere e cosa no quindi questo è un esempio la seconda domanda invece parlava di euristiche giusto? esattamente sì ok allora non sono ben sicura di cosa sia un'euristica ho un vago ricordo di programmazione lineare di queste cose però non voglio dire sciocchezze quindi lascerei la domanda magari alla tavola rotonda eventualmente però non voglio dire sciocchezze perché non sono sicura di questa cosa kind of you come si dice in inglese il fatto di appunto di dichiarare la come dire il fatto di non sapere a noi piacciono le persone che fanno così invece che come dire inventarsi una risposta così io da insegnante ci tengo tantissimo a questa cosa ammettere di non sapere qualcosa è perfettamente normale e se io non posso ammetterlo i miei studenti non saranno mai motivati a farlo quindi continueranno a inventarsi cose e basta quindi ci tengo molto e questo è bellissimo davvero e di questo ti ringraziamo Andrea c'è qualcos'altro? no mi sembra che abbiamo risposto praticamente a tutto quello che veniva dal pubblico fantastico quindi ragazzi io io sono soddisfatta voi? assolutamente sì grazie mille a tutti per questa opportunità davvero spero di non avervi annoiato troppo con tutti questi corsi sulla logica assolutamente vero Silvia Micheletto vuoi dire qualcosa? no a me proprio chiudere così secondo me è stato bellissimo proprio questa dichiarazione che ci fa sentire tutti coinvolti e al posto giusto perché tante volte affrontare questo tipo di tematiche spaventano e diciamo oddio io non ne so niente e non ci capirò mai nulla un po' quello che è il luogo comune della matematica no? cioè di matematica non ci si capisce niente e invece così questo rende tutto molto più coinvolgente e onesto è stato molto molto bello a conclusione di tutto un percorso che comunque è stato chiarissimo ed efficace grazie grazie a voi e con queste bellissime parole ringrazio ancora una volta Serafina la Penta e ringrazio tutti i ragazzi i partecipanti a questo webinar che sono da capo Silvia Micheletto e sono Aurora Colangelo Silvia Pasquetto Andrea Cottinelli e Silvia Pilliteri che purtroppo sono soltanto una piccola rappresentanza del numeroso gruppo dei nostri masterizzandi no? gli allievi del master in comunicazione delle scienze io invece vi ricordo prima di chiudere beh innanzitutto che se è piaciuto se al pubblico è piaciuto quello che stiamo che abbiamo fatto e che stiamo facendo lo prego di iscriversi ai nostri ai nostri al nostro social su youtube e di dare un like e di seguirci negli altri social quindi like a facebook e seguirci su instagram e twitter che cerchiamo di coltivare di non tenere insomma vuoti io vi ricordo gli appuntamenti di domani perché non è mica finita qui voglio dire la nostra chiacchierata sulla logica domani infatti avremo alle 5 e mezzo una videoregistrazione con la dottoressa Virginia Vaccaro che si occuperà di che parlerà anzi di la logica non si insegna ma si usa ed è anche questo un bel titolo curioso no ragazzi e quindi sentiremo insomma l'approccio alla logica di una ricercatrice che ha per molti anni ha insegnato didattica della logica e appunto continueremo a aggiungere i nostri mattoncini per capire che cos'è la logica e alla fine vedremo in tavola rotonda perché nessuno se la fila e fare naturalmente divulgazioni e a partire dalle 18 incontreremo il professor Ciraolo Francesco Ciraolo che ci parlerà delle molte facce della logica un'altra che è diverso da logica o logiche entriamo proprio nell'intimo della logica e vedremo e lì sì ci saranno delle diatribe tra vari ricercatori come dire ma ci sono diciamo la battuta non era tanto una battuta sulle comunità che si odiano succedono queste cose esattamente sì sì esattamente e quindi come dire forse ne vedremo anche delle belle spero di avervi stuzzicati e alle 6 e 3 quarti sempre domani ci sarà finalmente la nostra tavola rotonda in cui conosceremo e conoscerete anzi tutti gli allievi del master io sono felicissima perché devo dirlo assolutamente sono stati bravissimi hanno fatto un lavorone in pochissimo tempo sono diventati addetti ufficio stampa sono diventati comunicatori social media marketer sono diventati speaker moderatori veramente bravissimi e grazie e con questo vi salutiamo a domani ciao ciao grazie arrivederci